Una ordinanza tardiva, almeno di un mese, noi avevamo un picco massimo di 140 contagi, un minimo di 43, oggi siamo 83, proprio sul filo 250-059, quindi entriamo proprio per caso. Ovviamente già la zona arancione prevede che non ci possono essere spostamenti nemmeno dal proprio comune se non per andare a fare la spesa per mangiare, per ragioni di salute e per ragioni di lavoro. Il problema è avere grande attenzione al rispetto delle regole, noi ci siamo raccomandati quotidianamente ai cittadini di non fare assolutamente assembramenti, di mantenere la mascherina, di mantenere le distanze di due metri, almeno un metro, e di fare l'igienizzazione. Poi noi siamo un territorio dove vengono da tanti altri territori a lavorare nelle fabbriche, ai supermercati, alla casa della salute che riguarda tutti i territori, quindi è evidente che è più facile avere un maggior contagio. Quindi dal 21 al 25 bisognerebbe rispettare, bisogna rispettare rigorosamente le regole per ritornare ad avere un ulteriore calo di contagi e soprattutto per andare a fare tutti i vaccini. Io andrò giovedì mattina a fare il vaccino e quanto mai è necessario fare tutti i vaccini. Noi abbiamo proposto anche la mensa della zona industriale per fare i vaccini tutti qua, tutti questi comuni confinanti, evitando gli spostamenti su Pesero che creano problemi di mobilità, soprattutto alle persone più grandi, eccetera. Se in questi giorni dal 21 al 26 le persone rispettano rigorosamente le regole fondamentali e quindi stanno il più possibile a casa, si spostano solo per lavoro, per l'alimentazione, per ragioni di salute, noi dal 26 potremo avere una situazione di tranquillità e di normalità. Intendiamoci la tranquillità, la normalità quando tutti avranno fatti i vaccini. Siccome i vaccini ancora li hanno fatti solo quelli che hanno oltre 70 anni e non tutti, bisogna che se la regione ci ascolta e ci metta a disposizione la struttura per fare un punto vaccini a Vallefoglia, noi avremo quanto prima tutta la comunità vaccinata e quindi avremo, diciamo, la possibilità di ritornare in una situazione di normalità. Quindi rispettare le regole è fondamentale.